Guarda un po', dai, il tuo pubblico ti ama, vieni, vieni, non bordo, non bordo, no C'è anche la curva a sud, c'è la curva a sud che... Beh, alla curva a sud non si dice di no Prego Massimo Curva a sud e curva a nord, lo sappiamo che tu sei romano e romanista A voi ricordatevi però, curva a sud e curva a nord, ve lo dice un uomo senza voce Perché sono ridotto un schifo che noi ogni volta ci emozioniamo Ma vi dobbiamo ringraziare perché tutto quello che succede nella nostra vita di artisti è grazie Massimo, fermo così, sono là, la regia impazzisce Allora, ti ho presentato come eclettico Sì Ti ci riconosci? Assolutamente sì Ma l'essere eclettico è stato per scelta o necessità? No, io credo di avere questo tipo di natura È stata una difficoltà, se ti posso dire la verità Perché questo è un paese, come dire, alla ricerca sempre del posto fisso, no? Cioè la mentalità è quella del padroncino, non so come dire Quindi da noi si preferisce avere una specializzazione Perché quella specializzazione ti dà un inquadramento, ti dà un'immagine E su quella tutti stanno tranquilli Nel momento in cui oltre a quello fai un'altra cosa Tutti cominciano a dire cosa c'è dietro E da noi spesso e volentieri questo tipo di duttilità non è mai stata accettata Oggi che sono un po' adulto finalmente me la sento riconosciuta E c'è un prezzo da pagare per essere... Moltissimo Tipo? Beh, è moltissimo perché per tanto tempo, torno a ripetere, non riuscivo a essere definito Dai grandi soloni, dai grandi critici, no? Qualcosa di riconoscibile E allora questo faceva di me un superficiale È tutta una mentalità molto italiana questa Cioè la capacità di potersi interessare Oggi anche la politica sta sparigliando da questo punto di vista, no? Ti saresti mai aspettato quello che stiamo vivendo? No, noi che veniamo da altre storie In cui tutti quelli che erano i professori, i politici Beh, una volta hai detto che erano sfinge i politici Certo Però scusa una cosa Tu hai detto della tua carriera Ho fatto quello che volevo fare fuori dagli schemi Ma in questo paese comunista e bacchettone l'ho pagata Questo lo hai detto tu Certo Mi sono andato a rivedere tutte quante le interviste Certo, certo Ma non eri di sinistra? Beh, ma essere di sinistra non significa Essere comunisti? Nemmeno quello Essere da quel tuo punto di vista manichei o assolutisti Cioè quel tipo di comunismo, quel tipo di bacchettonismo Sei in atteggiamento di difesa, no? Te lo dico perché magari qualcuno potrebbe pensare Allora no, per l'amor di Dio E che sto seduto, la verità è Che sto seduto su una sedia che ci vuole Le fanno scomode Le fanno scomode apposta per questo Allora non sai mai come cercare di sboccare Scusa, ma sarà un caso che io sto così Oramai hai passato No, no, ti dico questo nel senso che il bacchettonismo poi comprende pure il fascismo Comprende la violenza, comprende tutto Il problema di essere definito o in una maniera o in un'altra È stato quello che ci ha un po' rovinato nel nostro paese A parte la tua dichiarazione e la tua storica militanza a sinistra Ho l'impressione che gli attori si collochino quasi naturalmente a sinistra Perché? Diciamo che la sinistra ha sempre avuto molta più attenzione nei confronti del mondo della cultura e dell'arte E poi perché era molto di moda Adesso va di moda essere da un'altra parte e molti si ricollocano Non cambiare idea è solo degli stupidi, no? Quindi per l'amor di Dio nel pieno rispetto Però mi sembra che dentro ci sia anche molto un atteggiamento di moda Anche nello scegliere la politica Un'altra tua dichiarazione Hai detto Mi spezza il cuore Ma non sono un attore da posto fisso Ma ce l'hai con quelli delle soap? No, no, sono tutti i miei amici E anzi devo dire che in questo paese Che generalmente non ha attenzione per i suoi artisti In generale non sono gli attori Le soap sono state un'ancora di salvezza C'è una capacità di lavoro Una capacità di dare anche spazio e visibilità A tanta gente che in un paese come questo Creare poi anche occupazione Perché l'indotto delle soap Ma magari ce ne fossero Con chi ce l'avevi? Non sono un attore da posto fisso No, no, l'idea del posto fisso è quello che ti dicevo La nostra carriera Adesso magari in maniera un po' diversa Ma noi quando da giovane abbiamo cominciato C'era un iter già definito Facevi la scuola A me mi hanno bocciato la scuola Come sempre Mi bocciano sempre le scuole Però poi ho fatto Il piccolo teatro di Milano Ostrelle Insomma ho avuto delle chance enormi Quindi fai la bottega del teatro Poi ti avvicini al cinema Poi non potevi fare la televisione Perché se facevi il cinema Invece poi la televisione ti chiama Quindi facevi tutta una serie di step Che ti portavano a costruire una carriera Adesso è cambiato tutto Adesso è cambiato perché Oddio Si è usciti fuori Come ti dicevo Dal talebanismo che c'era prima In cui uno era votato solo a fare quello O solo votato a fare un'altra cosa Io credo che il bello del nostro mestiere artistico Sia quello di non avere paletti Non avere paletti Significa che ognuno deve tentare Di sapersi esprimere Nelle tante maniere Che questo mestiere ti offre La buttiamo un po' in caciara Facciamoci una risata Con qualcosa che hai combinato in televisione Raffaella Raffaella Eccomi Massimo Ghini è Raffaella Carrà Raffaella Una vera professionista Signora Raffaella Tra cinque minuti in diretta Come cinque minuti? C'è non ho ancora finito di contare tutti i fagioli Arrivo, arrivo Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci Raffaella Una star internazionale Com'è bello far l'amore Io sono pronta e tu Tanti auguri A chi tanti amanti ha Tanti auguri In campagna e in città No, 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 stop, 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 no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no se puede hacer bailar en esta manera, porque a me me gusta la vuelta Fai que hacer muchísima vuelta Questa non me la ricordavo Parli tre lingue Parlo tre lingue Perché bisogna studiare, questo è un mestiere dove bisogna studiare Scusa Massimo, un attimo, ho la curva a sud, via un attimo Che c'è? Io ho una pila dei facioli qui, che borbotta Che c'è? Sembrava più Lady Gaga ho detto Anticipavo Anticipava Non lo freghi, Ghini, non lo freghi Abbi pazienza Anticipava Questa è una trasmissione che si chiamava Nessun Dorma Sì Che abbiamo fatto dove in realtà io non facevo una sorta di imitazione Facevo il trailer di un'eventuale fiction in cui avrei fatto Raffaella non ha figli ma è una zia meravigliosa Tu invece ne hai ben quattro e poi ci arriveremo Sei figlio di separati a tua volta Sì Questo ha condizionato in positivo o in negativo le tue scelte affettive? Ma in qualche maniera forse mi ha quasi preparato fin dall'inizio A sapere un po' come muoversi sulla famiglia allargata Infatti pure ieri che eravamo in un'altra trasmissione Dove c'è mia figlia che lavora in televisione Lavora con Barbara Palombelli Lavora con Barbara Palombelli da tre anni Molto contenta Infatti Barbara ci presentava dicendo Vedete c'è anche una forma e una maniera Che non è sempre facilissima Però di riuscire a far condividere la grande famiglia La famiglia allargata Il problema è che noi siamo cresciuti con l'idea di famiglia Che adesso è difficile da declinare Sei nelle sale O non sei d'accordo? Non ho capito Sei? Ho detto sei d'accordo o no Con l'idea di famiglia con la quale siamo cresciuti Che adesso è un po' difficile da declinare Io ho un po' paura C'era una cosa Faccio un'autocitazione da un racconto Da una serie televisiva Che era Raccontami Sulla Iuno Che è un grandissimo successo E c'era una scena in cui io padre Discutevo col figlio E a un certo punto partiva il ceffone Su questo ceffone c'è una lunghissima discussione Con gli sceneggiatori Perché io dicevo Se racconto quella storia Io ricordo benissimo Che c'era un momento in cui La discussione si interrompeva come per Magiva E credo che questo mi abbia fatto crescere Anche in qualche maniera Mi abbia Come dire Fatto uscire fuori anche Qualche reazione in quel momento Oggi il fatto che qualunque tipo di azione Venga fatta o compiuta Nei confronti dei nostri figli Debba essere sempre tradutta In una sorta di violenza Di un adulto Nei confronti di un minore Mi sembra sbagliata E non a caso Noi perdiamo molto l'immagine Del padre Che deve essere anche in grado di dire No, lo schiaffo Non è fisico È uno schiaffo Anche più Virtuale Sei nelle sale con un film sui bugiardi Nancy Brilli Tua ex moglie Ha detto che sei un farfallone Ma era un'intervista di qualche tempo fa Quante bugie hai detto Alle tue ex mogli? Ma io di professione faccio il bugiardo Quindi Però con una maschera Poi dici la verità Perché se chiedi a un uomo Di dire delle verità Non te le dici Se gli metti una maschera Invece poi La massima principale del nostro film È l'agenzia dei bugiardi Che sta avendo un bellissimo successo al cinema Nasce proprio da questo Una bella bugia Può fare molto meglio Di una brutta verità Stiamo giocando I francesi ci insegnano Bisogna essere provocatori No 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 A proposito di giocare Hai vestito anche i panni Di un noto agente segreto Insieme a un grande comico Altra rarità Prego Si accomodi Bondi Sono cinque giorni Che la stiamo aspettando Quelli della mafia russa Hanno assaltato una scuola materna Sparando sui bambini Inoltre hanno avvelenato L'acquedotto municipale No Si Quei pazzi fanatici Vogliono un miliardo di sterline È orribile Si È orribile Altrimenti faranno esplodere Una bomba atomica Nel centro di Londra Niente paura Ci penso io Va bene Si chiamava 007 L'uomo dalle manine d'oro Beh Insomma E Maurizio Crozza era geniale Come te la capi con Sì Grande Maurizio Crozza Con le cose Riesci a giustare A fare a casa Oppure Per carità Non sa manca Attacca anch'io Io credo che potrei Essere la rovina Di questo paese Se mi affidassero Una chiave inglese Chiaro Romano dicevo Nato e cresciuto A Piazza Vittorio Che all'epoca Ne so qualcosa Perché anche io Vengo da lì Non è che fosse Proprio d'aiuto In certi Non è che fosse Un biglietto da visita Eppure Piano piano Si sta ripetendo Beh Noi dobbiamo raccontare Che quella era La zona di Roma Costruita dai piemontesi Perché All'indomani La classe dirigente Roma capitale Quindi la classe dirigente Mio nonno era Un militare Era un pilota Militare E quindi come Tante famiglie Di militari Di impiegati dello Stato Abitavano in quella zona Poi la zona È stata abbandonata Perché pensa Andavamo a abitare Nelle case nuove Vuoi ridere? Quindi noi ci trasferimmo Da quelle case meravigliose E andavamo a abitare Dall'altra parte di Roma In quelle case Con quei muri Piccoli Però ce l'hai fatta Ce l'hai fatta Ripeto Partire da Piazza Vittorio È come partire con l'handicap All'epoca Oggi è tutta un'altra cosa Lo dico con tutto L'affetto possibile Dicevamo del film L'agenzia dei bugiardi Di Wolfango De Biasi Ti agevolo Con Gianpaolo Morelli E Alessandra Mastronardi Vediamo una clip È che io mi ero già organizzato Il weekend con l'amante Solo che è l'anniversario Del mio matrimonio E io non so Che cosa fare Dica l'amante La verità Non posso Gli ho già detto Che lo vedo Il primo dogma di Alibi Dice Mai mentire a tutte e due Se si mente a una sola C'è il 27% Di possibilità Di essere scoperti Se si mente a tutte e due Si passa al 54 Senta lei Sul suo telefono Com'è che ha segnato Il nome della sua amante Non ho capito Mi scusè Patatina È pazza Ma perché fate da soli Ma lei lo sa che il 37% Dei tradimenti Vengono scoperti Proprio così Lei già mi era al 54 In questo modo Mi balda al 91 È spacciato praticamente Oh il 37% Dei tradimenti Ma dopo aver letto La scena esitura E aver recitato Per carità Sei felicemente sposato Va bene così I figli e tutto Però hai dato un'occhiata Tante volte se ci fosse qualcosa Guarda c'è un'indicazione Che noi diamo nel film Che lui dice Che fa molto ridere Quando gli spiega Ma lei non deve fare così Lei deve usare Nome e cognome Scrive numero sconosciuto Così quando squila Vedi c'è il numero sconosciuto Rispondi Succede Mi succede E siccome io sono Inguaribile cacchierone Ogni tanto mi metto A chiacchierare con loro Perché se tu ben ricordi Io feci un film Tutta la vita davanti Di Paolo Guilzi Dove facevo appunto Il proprietario Drammatico Del call center Sì è vero Eri un bel film Sì no vabbè E raccontavamo E denunciavamo Quei tipi di storia Prima di altri Allora ogni volta Mi metto a discutere con loro Per dirgli Che sono solidale E gli sono vicino Perché so che tipo Di lavoro drammatico È difficile fare Massimo Chini In bocca al lupo Per questa nuova avventura Cinematografica L'agenzia dei bugiardi Grazie a tutti Bocca al lupo per la voce Grazie Spero che sia più presto Grazie molto Grazie grazie E grazie anche del fulare In tinta con gli occhi Grazie Lo sapevo